Lei è Baghera, è una cucciolona di quattro anni, è arrivata qua da noi a marzo. Lei era usata come fattrice dagli ex proprietari perché serviva solamente a creare cuccioli e all'inizio era un carattere timido, molto introverso perché aveva paura, perché veniva anche sgridata, lei doveva essere educata solamente per creare cuccioli e invece adesso qua è libera di star serena, a giocare con i suoi amichetti, con il suo compagno di box, anche se per lei nonostante sia così piccola il box risulta molto stretto. Baghera ha bisogno di una famiglia che le dedichi tante attenzioni perché come tutti i terrier è un cane che ha bisogno costante di essere a contatto con le persone. Se vi siete innamorati della storia di Baghera venite ad adottarla. Baghera è stata usata come un oggetto per fare cuccioli. I suoi vecchi proprietari non si sono presi cura di lei, non l'hanno trattata con rispetto e ora si merita di ricevere tutto l'amore che non ha mai ricevuto. Baghera nonostante tutto si fida ancora dell'essere umano e non vede l'ora di essere amata e rispettata. Ogni animale merita di avere una vita piena di rispetto e amore, lontano dalla crudeltà delle fattorie dei cuccioli. Baghera ha bisogno di essere trattata come qualsiasi cagnolina di casa, con amore e rispetto. Se volete adottare Baghera chiamate al numero 331 328 44 58.